Signori buongiorno, siamo a Sarajevo, dopo quasi 12 ore di pullman e notturna siamo arrivati a Puglia. Il viaggio è stato leggermente massacrando, ma proprio perché non c'era l'aria condizionata e ora stiamo andando a fare quattro passi per la città, dove vi sono bene tutte le immagini. Questa è la piazza centrale di Sarajevo, è piena di mercatini, è simile al bazar in Turchia, qualcosa di veramente sfizioso, caratteristico, da vedere assolutamente, è sottovalutato a Sarajevo perché è una bella città. A Sarajevo, è piena di mercatini, è piena di mercatini, è piena di mercatini, è piena di mercatini, a situazioni di sicure, a sarà piena di mercatini, è piena di mercatini, è piena di mercatini. Signori da Mostar siamo andati a questo ristorante che si trova proprio sul corso del film e con 5 euro guardate che piattone in mezzo è pure la vita Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!